È la giornata mondiale sulla consapevolezza per l'autismo. Da Napoli, come sindaco di Napoli, un appello a tutti per essere vicino a queste persone così fragili, così sensibili, alle loro famiglie, riflettere sulle difficoltà sempre e a maggior ragione in un momento così difficile di pandemia sanitaria. Uniti nelle difficoltà di persone che da sole non riescono ad affrontare momenti così difficili. Tendere la mano, solidarietà, fratellanza. Noi da Napoli ci siamo.